Si chiama Miranda Hollinshead, è una donna di 27 anni d'età del Texas. Ha sognato per anni di esplorare il crater of Diamond State Park nella contà di Pike, ma non è riuscita mai a farlo fino a venerdì passato. E la donna è stata protagonista di una fortuna immensa. Infatti pensate che stava passeggiando in uno dei parchi statari in Arkansas quando davanti a sé si è ritrovata un diamante, un diamante giallo da 3,72 carati. Una sorpresa straordinariamente bella. Ha deciso di prendere il coraggio a quattro mani e ha visto a sé questo meraviglioso diamante. Un diamante in piena regola, la donna è stata, o meglio, è felicissima e gli ha dato un nome, Caravanger, in onore della passione per i supereroi. E' deciso poi di venderlo. Il valore è davvero piuttosto elevato, piuttosto considerevole. Una storia davvero bella, straordinariamente unica, quella di questa donna, Miranda Hollinshead, ripeto, che ha trovato questo diamante. Saluti cari italiani, orari a stato vostro narratore italiano. Iscrivetevi, commentate e al prossimo video.